Sei mandati di pagamento emessi da Palazzo San Francesco e trasmessi in tessoreria per erogare gli stipendi arretrati alle addette al servizio pulizie. Una somma che ammonta a 20.000 euro e questa mattina è stata raggiunta l'intesa fra la Filcams CGL della provincia dell'Aquila, rappresentata dal segretario provinciale Luigi Antonetti e il dirigente del quarto settore Amedeo Deramo. Il confronto serrato si è chiuso con un verbale di unione di intenti, fortemente voluto da Antonetti, ma anche dall'assessore comunale Stefano Mariani. Entro il 28 febbraio dovranno essere accreditati gli stipendi che fanno riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre, compresa la tredicesima mensilità e gennaio 2018. CGL e CIS le chiedono all'amministrazione comunale il pagamento in surroga delle mensilità arretrate o di applicare l'articolo 1676 del Codice Civile in tema di responsabilità sociale. All'incontro non ha partecipato la COP 2001 per indisponibilità del suo rappresentante legale. Il Comune ha chiesto quindi alla ditta di fornire, entro il 27 febbraio, notizie in merito allo stato di pagamento dei corrispettivi. L'auspicio è che il verbale di intenti ponga fine una volta per tutte a ritardi e querelle.